nel nostro viaggio verso la scozia abbiamo fatto una strada fantastica che vi consigliamo assolutamente di fare se vi trovate dalle parti delle alti alpi francesi si tratta dell'autoroute touristique de combe la valle per raggiungerla si attraversa il parco regionale del vercorre che già da solo offre un percorso davvero interessante con una strada costruita nella gola della montagna ciao a tutti siamo nella meravigliosissima autoroute touristique combe la valle uno spettacolo della natura questa strada è lunga solo 4 chilometri ma è veramente spettacolare per i panorami che offre per la particolarità di essere proprio scavata nella roccia la cosa interessante che fu costruita all'inizio per il trasporto del legno però tipo nella fine dell'ottocento però da subito divenne un'attrazione turistica proprio per la sua particolarità stupendo questo è uno degli obiettivi del nostro viaggio ce la siamo studiati e abbiamo pensato a pensare a pensare a pensare a noi siamo qua ed è veramente uno spettacolo mi vale la pena molto bella bellissima ma la rifacciamo al contrario esatto e riprendiamo al contrario così abbiamo ricordo complessivo bello 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 ciao in realtà faremo questa strada avanti e indietro almeno 3 o 4 volte per poi alla fine arrenderci e dirigerci verso lione dove passeremo la notte e sarà questa la seconda tappa del nostro viaggio verso la Scozia ciao 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 ciao